Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche nel mio gruppo Telegram per restare sempre aggiornati. Tutti i link li trovate qui sotto in descrizione e vi ricordo inoltre di attivare la campanellina per non perdervi ogni video. Oggi farò il video per impressione sulla vendetta di Masamune, edito da Goem, prezzo 6,95€, sovraccoperta, tratto molto molto bello, devo dire, mi piace molto questo tratto di disegno, sentimentale, scolastico, i generi. Parliamo di questo ragazzo, questo Masamune, che vuole vendicarsi di Aki ad Agaki, questa ragazza che 8 anni fa, alle elementari, quando si è dichiarato a lei, l'ha praticamente snobbato, chiamandolo zampone perché era abbastanza cicciottello. Ed allora, con suo nonno, che l'ha convinto a sottoposte di un elemento estenuante per calare preso o prendere forma fisica, diventa un figaccione, vogliamo dire, adesso, dopo 8 anni, e quasi tutte le ragazze della scuola gli corrono dietro. Però lui ha in testa solo Masamune e vendicarsi con lei, e quindi partirà questa storia, proprio cercare vendetta, di fare innamorare la ragazza di lui, e poi rifiutarla quando lei si dichiarerà. Ci riuscirà, non ci riuscirà, quali metodi uscirà, sarà davvero così, oppure forse se è direttamente ancora innamorato di lei, incontreremo un altro personaggio all'interno della storia, che sarà fondamentale, importante, che è legato a entrambi i protagonisti, che aiuterà il ragazzo nella sua vendetta. Perché, dovete leggere, l'ho trovato molto carino, ma sorpreso, meglio di quanto pensavo un po' a situazioni assurde, imbarazzanti, molto comico e divertente, devo dire. Secondo me, mi piace di più di Greg Wiasama Love is World, almeno per quello che ha visto. Qualcosina c'ha ancora di quello, c'ha qualcosina un po' anche di Last Game, devo dire. Però, il primo volume, devo dire che l'ho molto apprezzato, e quindi secondo lo prendo di sicuro, poi è una miniserie, quindi finirà con 11 volumi. Quindi secondo lo prendo di sicuro e voglio proprio vedere dove vuole andare a parare. Le prime pagine sono anche a colori, tra l'altro. Anche Lea, la ragazza, è molto, diciamo, molto kaoi come character design. Molto, molto bella, fatta molto bene come character design. E quindi, sono curioso di vedere, ecco. Ripeto, c'ha delle scene davvero comiche. Fa delle espressioni. La ragazza ha un carattere tutto molto particolare. E' super apprezzata, devo dire. E sono davvero curioso, ecco. Come ho già accennato, potreste riscontrarci qualcosa, almeno io ci ho riscontrato qualcosa di Last Game. Che ci ho già fatto un video. Qualcosina anche di Kaguya Summer of His World, però non è uguale, perché qua parte fondamentalmente per vendicarsi un po' come Last Game, in effetti. Anche se poi Last Game si innamora, ma succederà pure qua. E quindi parte proprio farla innamorare la ragazza per poi rifiutarla. Questa ragazza che è amata da tutti i tipi della scuola. Tutti ci proverano con lei, però la ragazza li snoba tutti, li tratta tutti male, come ha fatto con lui da giovane. Dagli epiteti coloriti e poco eleganti. E' molto attenzosa, ecco. A parte che ha una famiglia ricca, però si sente molto in alto e quindi si rapporta con gli altri, con i maschi soprattutto. In modo freddo, distaccato. Io sono più, come dire, io sono più in alto di te e tu non vale nulla. Cioè, più o meno è quello che ci viene presentato all'inizio. Poi probabilmente in alcune scene in realtà è dentro una ragazza normale, con le sue dubbi e sua fragilità. Probabilmente è una maschera che vuole frapporre tra sé e il mondo esterno in particolare dei maschi. Perché magari gli è successo qualcosa piccolo e non sappiamo bene la storia, ma magari ci verrà mostrata più avanti il ragazzo che è abbastanza semplice. Si capisce cosa vuole, cioè vuole farla innamorare in tutti i modi, ma probabilmente gli piace comunque. Ancora dentro c'è probabilmente qualcosa che comunque gli piace ancora in qualche modo. Però principalmente pensa alla vendetta e anche a snobbare tutte le ragazze che gli fanno il filo. Eccetera eccetera. E quindi, vediamo. Anche se si creano situazioni imbarazzanti anche con altre ragazze. A me è piaciuto, devo dire, in effetti. Io lo consiglio come primo volume, se c'è qualcosa di sentimentale, scolastico, però un po' diverso dai soliti sentimentali e scolastici. Secondo me può fare il caso vostro, che tra l'altro, ripeto, ha 11 volumi e basta. Quindi si sa già quanti ne avrai concluso in Giappone. E' uscito un anime, la prima stagione, la seconda, devo ancora uscire. Sono curioso, ecco. Perché anche come carattere design i protagonisti si sono fatti, soprattutto la ragazza è fatta molto molto bene. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like. Noi ci vediamo ai prossimi video. Noi ci vediamo ai prossimi video.